Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della seconda stagione della Master League Signori, siamo sempre con l'Inter in questa seconda stagione Siamo riduci da due sconfitte nelle prime due di campionato contro Marsiglia Abbiamo preso una batossa terribile e contro il Dortmund Abbiamo seri problemi, signori, decisamente sì Perché il modo di giocare è completamente diverso Mi avete dato tanti consigli nei commenti Ovvero quello di usare i filtranti alti, quello di usare le triangolazioni Signori, devo riprendere normalmente la mano Devo usare le finte tiro Devo un attimino riorganizzarmi su tutto quanto Però ci proviamo, signori, ci proviamo Potrà forse volerci più di due semplici stagioni Per ottenere qualcosa di interessante come è stato nella stagione 1 con la Roma Detto questo, non perdiamo tempo Procediamo all'incontro successivo e andiamo avanti Iniziamo questo nuovo video Intanto, signori, buona domenica a tutti quanti Io vi ringrazio sempre per i like, per i commenti, per i suggerimenti E per le iscrizioni al canale Gestione dei dati di formazione Vediamo se per caso Inter lui si ricorda qualcosa Ma non penso di aver salvato Formazione Ok Forse Forse, forse Caricato Ok, lui si è caricato qualcosa Non sappiamo cosa si sia caricato Però va bene L'unica cosa che vi ricordo è che voglio mettere i difensori più indietro, signori Decisamente, sì Magari un pelino più indietro Anche per l'Anden E sì, sì, signori Ci sarà molta, molta distanza fra i vari reparti Fra il reparto difensivo e il reparto dell'attacco Me ne rendo conto Ma, signori Questi se ci vedono in contropiede ci segnano Quindi dobbiamo un attimino Cercare di portare punti a casa E va bene Sono d'accordo con il suggerimento che mi avete scritto nei commenti Di puntare tutto su Ronaldo Intanto come primo acquisto Così da non ripetere gli stessi acquisti della passata stagione Magari andando a comprare giocatori che corrono sulle fasce E quindi E quindi Porca Ma porca Ma porca Calma, 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 calma Devo, devo, signori È da qualche giorno che non gioco Quindi ho un attimino Sono non arrugginito di più Meno male che c'è Ivanov Meno male che c'è Ivanov Sono un attimino arrugginito Tra l'altro l'episodio del scorsa settimana sono usciti No, vabbè, dai però Che cazzarola Che cazzarola, Ivanov Dai Partiamo malissimo, signori Partiamo malissimo Però va bene Però va bene Chi male parte Chi parte male Già è a metà percorso No, non era così Non era così No Mannaggia, mannaggia, mannaggia Mannaggia, mannaggia, mannaggia Dobbiamo un attimino riuscire No Ma stai scherzando che l'ho appena sfiorato E gli ha dato subito fallo Il problema è che con questa banda di scarpati di casa È molto difficile Dai Con questa banda di scappati di casa Dico Come cazzarola si fa a impostare No, no, no Tu sei tutto scemo Ivanov mio Ma Mi avete detto anche di fare meno chiacchiere E pensare più al gioco Questo è anche vero, signori Ma se non parlo Non ci divertiamo, signori Se non parlo Eh, se non parlo Non riesco a superare la mia metà campo È impressionante Valery, grandissimo Calma, calma Calma, calma Calma relax Calma relax Calma relax, signori Calma relax Inventiamoci qualcosa Bravi Eeeh Pure quando giocarello Che Non è già le tue sorelle Non è già le tue sorelle Dai, dai Calma, calma Dai, ma da dove gli è passata sta parte? No, no Grande Grande Valery che si è messo in mezzo Ha fatto muro Ha fatto muro Valery Grande Valery Grande Valery Ahia, ahia Ivanov Grandissimo Ivanov Grandissimo Ivanov Vabbè Con calma Con calma Calma relax Calma relax Giocala lì Ok Le triangolazioni, signori Ecco Non è tanto come cazzo Si facevano le triangolazioni Il discorso Bravo Bello 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 Tu però Mannaggia Dai che l'avevo anticipato Mannaggia a te A chi non te lo dice pure Valery Non ti fa risolverare Valery Tienilo Ma porca No 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 Grande Ivanov Meno male che l'ha presa male di testa Signori Meno male che l'ha presa male di testa Se no Porca miseria Devo Signori Devo Devo No Però Dai Cazzara Non riusciamo a fare Due passaggi di fila Due Due di fila Non ci riusciamo a farli Due di fila Non ci riusciamo a farli No No Ivanov Grande Grandissimo Ivanov Si è fatto trovare il momento giusto Nel posto giusto Calma Calma relax Calma relax Dai Mi stanno attaccando i nervi pesantemente Mi stanno attaccando i nervi pesantemente Niente Hanno segnato Andevano Hanno segnato Signori Purtroppo Hanno segnato Ivanov Grandissimo Non so Non so che inventarmi Calma relax Calma relax Calma relax Dai però Se sbagliamo anche i passaggi Quelli semplici Dico Non abbiamo veramente dove andare Calma relax Lancialo Non è lui Non è lui Ma vabbè Dai però Una volta che potevamo Alla per irci sulla fascia Porca è bravo Sì bravo Così ti voglio Ammazzalo Quanto siamo 32esima ancora Signori Cioè pensare che giochiamo No no Questo non era fallo No 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 Non era fallo No 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 Levagli la palla Calma Calma Miranda Miranda calma relax Espimas 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 Va bene La palla comunque è arrivata a Castolo Che non Non è in grado di fare niente Neanche di intendere di volere Castolo Dagliela Dagliela Bravissimo 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 Bravi tutti Bravi tutti Non Dai però Se io ti do l'input di passarla Un motivo ci sarà No No Se ti arriva l'input di passare il pallone Dico Ragionaci Fallo funzionare subito Sto cazzo Rola di input Grande Bello Espimas Espimas No Non doveva essere lì al centro Mannaggia Alle tu sorelle No 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 Ivanov Ivanov Va bene Va bene Basta che non me lo butti fuori Ti prego Va bene Non ho niente Va bene Salvataggio di Ivanov Se questo lo tira in porta è finita Se questo lo tira in porta è finita Quanti erano? Quattro in difesa praticamente Porca Se vabbè Ma va a te la pigliare nel secchio Va Ma va a te la pigliare nel secchio Va Io voglio sapere come ha fatto a tenerla in campo Come ha fatto a tenerla in campo Voglio sapere Niente 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 Soffriamo anche contro il Litz Soffriamo anche contro il Litz Soffriamo anche Non solo soffriamo anche contro il Litz Riusciamo a evitare? No Per forza Calcio d'angolo Calcio d'angolo Eh vaffanbagno però dai Cazzarola Stavamo partendo noi Stavamo partendo una parolona Però va bene Signori Effettivamente Meno chiacchiere Più concentrazione Ci sta Grandissimo No vabbè dai Però se hanno sta fortuna Io non Io non posso Cioè Calma relax Questa serie mi sa che finirà molto presto Signori Questa serie mi sa che finirà molto presto Calma Calma Buono Buono Triangolazione troppo lontana Troppo lunga Me lo dà il difensore No Non me lo deve dare il difensore Me lo dà quando vuole lui il difensore Ma porca Riesce a prendere le testa Bravissimo Bravissimo E dai Cazzarola Cazzarola Di una miseria Cazzarola Ottimo passaggio Ma perché lì Perché lì Perché lì Ma no C'avevo il compagno lì vicino C'avevo il compagno Lì vicino Valeri Se tutti noi Valeri mio Valeri mio Valeri mio C'è Valeri Che si fa bucellare così E' terribile Però dai E vabbè L'abbiamo provato una cosa impossibile Signori Però quantomeno ci abbiamo provato Ci abbiamo A quattordicesimo Abbiamo un attimino dato segni di vita Madonna mia Che fastidio Che fastidio Avere quei due là davanti Che non li so fare giocare Non è questione che non sono bravi loro Io non li so fare giocare Signori Perché Chi sa giocare a questo gioco Gli fa fare otto gol Praticamente Anche a questo livello di difficoltà Sono io Che non li so fare giocare Porca miseria Dai 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 Nooo Mannaggia Bello che mi avete detto Nei commenti Nooo Non comprare nessuno Nessun giocatore veloce Sulle fasce Compra direttamente A Ronaldo Signori Ma per arrivare a Ronaldo Non dobbiamo riuscire a vincere Qualche partita E se io non riesco Dai 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 Zio Se io non riesco A Ad avere un po' di gioco Stiamo messi Malissimo Signori Stiamo messi Veramente male Ecco Che poi mi avete detto Anche che devo utilizzare I filtranti Alti Ma se c'ho I giocatori lenti Come faccio a utilizzare I filtranti alti Questa è una cosa Che ancora non abbiamo provato I filtranti alti Come faccio Guarda 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 Proprio la difesa Messa malissimo Stiamo a prendere il 3 a 0 Ma nolli 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 Mannaggia a te Nolli Io poi c'ho giocatori Che Sbagliano tutto Vabbè In FTA Non sono i giocatori Che sbagliano tutto Sono io Che gli do i comandi sbagliati Me ne rendo conto Signori State tranquilli E sto delirando Sto delirando Sto delirando Questa cosa non va bene Certo signori Se in questa stagione Dovessimo arrivare ultimi Non penso ci sarà un seguito Signori Decisamente no Perché se dovessimo perdere Tutte le partite Se dovessimo perdere Tutte le partite Signori Vuol dire che non riusciremo A fare nemmeno un acquisto Vuol dire che la stagione Non Andrebbe Minimamente Avanti E questa cosa non Dovrebbe essere Un fallimento Un fallimento Meno male Che quello Ha perso il passo E poi i filtranti alti Come si fanno Così Se Ok I filtranti alti Abbiamo capito come si fanno Signori Ivanov Va bene Apri la lì Ok Non riesco Cioè Mi da troppo fastidio Il fatto che sono più veloci Di me Signori Sono più veloci Di me Non riesco Ad impostare Non è tanto il discorso Che ero abituato a giocare In una certa maniera Non è tanto il discorso E' il discorso Che non riesco a fare nulla Guarda 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 Oh finalmente una bella azione Castello 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 No Potevamo segnare un gol Cazzarola Potevamo segnarne uno Potevamo almeno dire Guarda Uno siamo riusciti a farlo E invece No Nemmeno questo Nemmeno questo Grandi Grandi Bravi tutti Bravi tutti Proprio C'avete voglia di giocare Vaffanbagno Dai Butta fuori No Giallo per Stromer Dai Bridges A Bridges Potete fare un giro Nello spogliatoio Vai Vai Dai Su Su Che non ti ho fatto niente Non ti hanno nemmeno sostituito Sei proprio Un 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 Simulatore Sei proprio Un simulatore Ok Calma 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 La mettevi a terra Era fatta Va bene Fuori gioco Niente signori Seconda Terza partita del campionato Terza sconfitta Io non so Non ricordo se con la Roma Avevamo avuto Una partenza così brutta Questo non me lo ricordo Però Però va bene Però va bene Però va bene Il campionato è lungo Il campionato è lungo Non dobbiamo demordere Il campionato è lungo Non dobbiamo demordere Non dobbiamo demordere Doppietta di Keywell Secondo tempo Forse abbiamo retto un po' di più Anche se abbiamo fatto Dei falli brutti A me al centro campo Rimaniamo con 20 punticini Signori Nessun Novità Nessun cambiamento Della situazione Rimaniamo a 0 punti Insieme a Chelsea Con 7 gol subiti E nessuno Fatto 3 sconfitte su 3 partite Iniziamo benissimo Il dottor punto è primo A punteggio pieno A 9 punti Detto questo signori Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i studenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao